Presentazione all'aperto a San Nicola La Strada, alla rotonda della sua candidatura a sindaco. Prima domanda d'obbligo, per chi ha deciso di scendere in campo e anche per chi una conferenza, una iniziativa all'aperto? Ho ricevuto un'investitura da parte del mio partito di appartenenza, da parte del Partito Democratico, che è una forza politica molto presente sul territorio, che da anni lavora incessantemente nell'interesse esclusivo della cittadinanza. Sono persona di squadra, ricevendo questa investitura ho sentito il dovere ed anche con grande senso di responsabilità la voglia, la forza di affrontare questa campagna elettorale. Abbiamo deciso di fare una conferenza stampa all'aperto perché questo ci contraddistingue. Noi non siamo coloro i quali si chiudono nelle stanze a decidere il destino della città. Noi amiamo confrontarci e stare tra la gente. La Rotonda è un luogo simbolico che deve necessariamente rivivere. È il biglietto da visita della nostra città. È il biglietto da visita per coloro i quali, uscendo a Caserta Sud, si dirigono a Palazzo Reale a Caserta. Questo luogo deve tornare ad essere un luogo sicuro e soprattutto ben curato da un punto di vista del decoro. La sezione PD di San Nicolò la Strada è sempre stata molto critica rispetto alla gestione dell'Ipaoli. Adesso l'ex sindaco sostiene la sua candidatura. Lei non si sente imbarazzato? Assolutamente no. Il nostro giudizio sull'operato delle giunte passate continua ad essere un giudizio negativo. Dopodiché scendiamo in campo questa volta non per fare una battaglia di testimonianza ma per governarla questa città. Rispetto a questo c'è il gesto nobile di una persona che dopo una lunga carriera politica decide di farsi da parte per fare spazio ad un giovane. Non vedo l'imbarazzo dove dovrebbe essere. Come dicevo, noi non ci candidiamo per fare una battaglia di testimonianza ma per provare a governarla davvero questa città. Per fare questo non è sufficiente soltanto avere buone idee, è sufficiente che altri si convincano che quelle idee vanno sostenute. E questo è accaduto a San Nicolò la Strada. Grazie a tutti.